A Girasole. Margherita mi chiamo. Son quattro giorni che stavo a mangiare i peperoni, ma pure oggi si fa a mangiare i peperoni. Sì, ma oggi vi faccio ripieni. Ripieni di che? Di peperoni. Ma babba... Fermo! Oh, tazzardà, eh! Come ti chiami, geranio? Margherita. Margherita. Margherita, c'è presente la Margherita, mamma non mamma? Ecco, io dà a spenno se tazzardi l'altra volta. Fermo! Non si può. Ah, che vuoi adesso? C'è la signora di là, e se c'è lei voi non potete entrare, l'ha detto Don Gaetano. Pietato fornicare. Ah, io mica formico, io scopo, sai? Fermo! Ma ti dà anche te? Beh? Vabbè, te lascia la porta aperta, così vedi che non giocavo con i formicoli. Va bene adesso? Dai, spengo.